Non so se posso permettermi di suggerire al Sindaco, nella distribuzione degli incarichi, affidi a qualcuno i rapporti proprio con l'Europa, cioè qualcuno che abbia come compito quello di verificare ciò che dall'Europa può arrivare in città tramite la regione, tramite lo Stato e che attivi poi i vari assessorati perché con speditezza facciano la loro parte perché questi fondi vengono adoperati.